Ragazzi Che stai vedendo? Ok Allora praticamente Ho trovato spunto per il prossimo episodio E forse anche il nostro ultimo episodio What? Why? Ragazzi ho trovato una notizia oggi Non so se voi l'avete vista Spero di no Su Allora praticamente su Su Huffman Post Ma l'ho visto anche su Credo su un altro giornale Tipo Mattino o Repubblico Non mi ricordo Allora la notizia dice Non spicciare Non spicciare Allora la notizia dicevo Dice Una rilettura del calendario Maya Suggerisce che la fine del mondo sarà settimana prossima Per i complottisti di Twitter L'apocalisse è previsto Nella profezia Non è datato Il 21 dicembre 2012 Come teorizzato Ma il 21 giugno 2020 Oddio tutto cambia adesso Ragazzi dobbiamo fare L'ultima puntata E credo che l'argomento dovrà essere La fine del mondo Eh suppongo di sì I Maya Oh i Vati e Maya Ah beh sì Profezie Maya Ho trovato solamente Un video che parla di questa notizia Ma è di Non solo di due minuti Ma in inglese Prodotto da molti comunque Video che parlano di fine del mondo Maya Profezie Nostradamus Eccetera eccetera Sei d'accordo? Beh Mi sa di sì Anzi perché è il nostro ultimo ragazzi È il nostro ultimo video Cioè anche i nostri ultimi momenti di vita Quindi il 21 giugno Cioè ore? Non lo so Spero dopo pranzo Beh pochissimo Aspetta pochissimi giorni Come faremo? Lo facciamo? Eh ci proviamo Andiamoci a vestire allora Ci vediamo tra un secondo